Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video, oggi mi trovo su Bracadam perché avevo promesso di tornare su un giornato perché il primo video vi è piaciuto, vi ho lasciato tanti like, quindi ritorniamo. Perfetto, dai andiamo in giro, per di qua, per di qua, non so se c'è un nascondiglio nella stazione di polizia, cosa merito, non controllerò, dov'è casa mia? Andare a finire una viscola di stufa. Questo partnerino è un problema adesso, ora. Mmmh, 속onino, è un po' di oro, ma sembra sbaglio di qualcosa. Dai però, oh. Non so, dovrò sfruttarmi, è andato in giro. Noi, non è il corso di me, ma è il corso di guarda. E' un'impasto. Ma è il corso di guarda. Non mi scomparso la casa Ogni volta che entro su questo schifo di gioco mi scompare Madonna mia Ora devo rifarmi una nuova casa Perché si era visto il nome 10.000 case ho avuto E le ho perse tutte Ecco perché non ho più giocato Una casa Questa vorrei Posso averla? No Vediamo altre Ci sono tutte quelle disponibili Una roulotte Questa Questa si c'è una casa Non la puoi mettere Comunque ragazzi Buon senso il destro Ok Che bello è pure natalizio Che tenerezza Che carino Che c'è qua su La camera da letto Che bello Il divano Dov'è la cucina? Eccolo qui C'è l'aspirapolvere Tutto Nel bagno Che c'è fuori Una piscina Vorrei anche una casetta così Nella vita reale Troppo Non ho soldi per permettermelo Perché le case costano Sempre un bordello Vediamo Questo deve essere Il garage I parcheggi I veicoli Non so Il computer La camera da letto C'è lassù Che non ho potuto vedere Era un tetto Forse 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 l'avevo visto No Mi sa di no Un'altra stanza Che carina Su c'è il tetto E lì ci sono le disca Pescatele Che bello Che bello Vediamo Vediamo Che carino Non ho ancora Nel borsa Andrò Bé a cacciare Un'aria Un'altra Fortunatamente Ho fatto la doccia Vado a parcheggiare Un veicolo Nel drive A cacciare Che il veicolo Lì fanno Che Sono Tutto Un veicolo Un veicolo Un veicolo Vedete È un po' questo Impossibile Che ne rari In un posto Simile Questo anche Perché non Non è tanto bello Sto gioco Non capisco Che cosa ci trova La gente In questo gioco Di questi Belli No 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 Non posso chiuderla Chiudiamo, dove si chiude, è carino la macchina, no, non voglio cambiare l'outfit, quello che ho messo mi passa e mi avanza, che ci sono, ci vediamo così, vai, qui c'è uno di scatoli, vediamo che c'è di buono, dai, che l'ho aperto, che carino, sempre le immaginette, che tenerezza, ah, questo è il conto di brocciato nella carta di credito, e comunque buon anno a tutti, ma è finito quest'anno, per cominciare il 2023, speriamo che sia l'anno migliore, perché il 2021-2022 sono stati gli anni un pochino bruttini, perché ci sono stati contagi, covid e così via, anche nel 2020 comunque quando è iniziata questa, il lockdown, è stato un vero spiego, non lo, poi ragazzi, un giorno, fatemi sapere se vorreste, come avrò il motorino aggiustato, perché ce l'ho rotto, come ce l'ho aggiustato, se io volevo andassi in un cimitero e provassi l'app della tavola guiccia lì, che ne dite? Scrivetemi nei commenti se vi piace quest'idea, perché a me, sinceramente, piace molto. Ok, quindi, se posso l'aspirapolvere, la posso passare? Che bella, che brava lì, che cosa? In televisione, in quello che guardo, non c'è niente. Vediamo, dove sono i figli? Ah, ce li avevo messi dentro il piano. Poliziotto, armi, no, fiori, attrezzi da lavoro, attrezzi, mi alleno con i figli, guardo. Condi sono questi? Saranno 50 kg. Scotto, dove ce li ho i figli? Eccoli li ho i figli, eccoli qua, guardate che carini. No, devo toglierne uno, ho capito. La prima è qui, deve ancora crescere, diventare una youtuber, una youtuber, e lui deve diventare uno youtuber, come il suo papà. Che tenerezza. Qui c'è il camino, presumo, stufo, quello che... Come si accende? Non ti doi accendere. È un vero peccato. Figli, andate a dormire, ecco. Togliamo tutto, prendiamo il tablet, il telefono, vediamo che c'è nel... Nel tablet, niente, il telefono. Posso chiamare qualcuno, dei visiter, notizie, SWAT, polizia, consegna pizza, militare, spia, consegna pizza. Funziona? Hai bisogno di aiuto? Non funziona. Solo la polizia, c'ho come contatto. No, peccato. Va bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, commentate. Alla prossima, ciao!